Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono Gabriel Birillo appena tornati dalla Pitaly oggi vi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo, esponicelo. Il Noop lanciato da Danielino è preso da Gabriel, numero uno, saltava come uno stambecco, è riuscito a prendere il liquido di Danielino e ora andiamo a fare la prova, è un liquido aroma 20 ml, ci va aggiunta la basetta 30 ml e ci va aggiunta a chi vuole la nicotina 10 ml, la chi vuole è zero, la basetta da 10 ml, noi è zero, andiamo a fare la prova di sbato, vai Gabriel, dovrebbe essere un gelato, un gelato al pistacchio, pistacchione, eccolo qui, vai, già bello miscelato, è fatto l'altro giorno, non andrò a provare sull'intio, di solito deve stare 72 ore, può riposare, io lo proverò sopra al Tini RDA della Demon Killer, un 14 mm da flower, si sentono molto bene gli aromi buono, però cremoso, si sentono tutto, sia il gelato che il pistacchio, tanta roba voto Gabriel, a questo liquidozzo, io ti do un 8, come mangiare un gelato al pistacchio, si, siciliano, uguale, buonissimo, io ci do 9, 9 e mezzo, perché a me mi piacciono molto i cremosi, e a questo qua a me mi piace molto, un bel liquidozzo, merito buonissimo, buonissimo, noop e tanta roba, lo conciliamo, ricordiamo che potete trovare anche la svapo caffè, marina di carara, moliciara, e la spezia, andatela a trovare, c'è la sortità di liquidi nuovi da andare a provare, mi raccomando, passate dal svapo caffè, allora, dalla camera dello svapo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram, veniteci a trovare, ciao